eccoci con elena la bionda che è la sorella della mora che non viene più perché l'avete insultata io ci tenevo a farla venire lui si era innamorato mi ero innamorato di noemi e quindi niente l'avete fatto scappare scappare cattivi andate lavorare invece di insultare le ragazze ragazze che non poi non si notano mai che tua sorella non si nota poi una ragazza è aperta a sperimentare sul fronte sesso in un rapporto ne ho scelto questo topic però pensando a te perché di solito non parliamo mai di sesso e quindi parliamo una volta ogni tanto di sesso visto che offri sempre grandi spunti vediamo se stavolta si confermi tale vai allora che cosa stavamo dicendo quanto una ragazza è aperta a sperimentare sesso in un rapporto allora parliamo di la frequentazione all'inizio come sempre allora dipende secondo me ormai siccome è così diventato facile così sdoganato secondo me a volte può succedere anche subito e succede subito se parliamo di qualcosa di più serio ci vuole un po di tempo e ci vorranno delle conferme da parte del ragazzo quindi lei sarà pronta a sperimentare quando avrà le certezze del ragazzo che sono le solite cose attenzioni lei che c'è lui che cerca lui comunque si dimostra disponibile si dimostra disponibile a uscire quando comunque lei lo cerca e tutte queste serie di cose insomma di non sparire solo perché magari non c'è ancora stato il sesso quindi sai uno magari si scoccia e passa subito a oltre quindi già segnali interesse ma comunque abbastanza importanti allora la ragazza si lascia andare giustamente però generalmente allora di norma dovrebbe succedere dopo un po di settimane adesso che così sdoganato secondo me la ragazza è pronta a sperimentare quando ha voglia lei quindi può anche non succedere niente di particolare dal punto di vista del ragazzo quindi non è che deve fare chissà che cosa magari lei in quel momento è disposta e quindi può succedere anche se lui magari è un pazzo di merda ma curiosità tu con il tuo attuale fidanzato che diciamo che qua vicino l'attuale marito si marito addirittura e sperimentato qualcosa vabbè allora io ti dico lui mi ha colpito tantissimo perché forse è stato uno dei pochissimi non voglio adesso dire che sono proprio pochissimi pochissimi però è raro che un uomo ti dica no anche dopo magari un po di settimane ti dica no perché non ti conosco abbastanza e io non sono quel tipo di di uomo qui non è venuto con te non è venuto con me subito quindi anche se io gli avevo chiesto perché io non ero interessata a me relazioni quindi per mano non era interessante capire questa cosa però non è bello che tutti esprimono così maniera proprio non è stata una relazione chiaramente lo stavo conoscendo non è che volevo andare con lui il giorno dopo però diciamo era passato già un mesetto due mesetti e lui non voleva lui non è che fosse con qualche problema diceva no io voglio che siccome ho capito che a te interessa quello io non voglio che poi magari facendolo subito tu per l'interesse e che ne vai un po è stato un po donnina del caso lui ha giocato bene però sì lui tantissimo e mi ha intrappolato perché io non volevo una relazione e ora sono sposata pazzesco ragazzi cioè vedete io ma fare il difficile sia allora allora ho fatto un video recentemente dove dicevo che la donna in qualche modo si invaghisce dell'uomo che teme di non poter conquistare no e qua si ripresenta ancora una volta questo concetto ossia il fatto che tu non sei riuscita ad avere subito lui ha scatenato in te un interesse molto più alto no e questo badate bene consiglio da 10 miliardi di euro e mezzo vale anche se non siete fighissimi perché è un aspetto comportamentale non è un aspetto fisico estetico adesso siccome di scatenate poi chiaramente quello potete usarlo però il concetto è veramente cruciale quanto efficace perché se in qualche modo non fate capire la ragazza che siete già cotti e puntino che si è disponibile per tutto eccetera eccetera potete veramente ribaltare situazioni ad esempio lui era molto si vedeva che era cotto lui non è che fosse freddo non mi scriveva non mi cercava anzi ci vedevamo anche tutti i giorni e lui mi scriveva anche a vederci a casa tu allora si scriva i papiri e cose perché i papiri egizi come steve però nel senso lui ci teneva tantissimo farsi vedere come un uomo di valore come non mi diceva sempre io non voglio sembrare come gli altri ragazzi quindi io voglio anche farti capire che io ho interesse vero e questo quindi anche non farlo subito poi chiaramente se succede succede nel senso non è che ci sono sacco di relazioni nate magari dopo anche il sesso primo appuntamento e poi sono note relazioni quindi questo è un discorso un po così però secondo me quando una ragazza cercano in relazione vedere l'uomo che quasi magari dopo due tre mesi se dice no un po strano però già le prime settimane che dice no che comunque tu fai capire che sei interessata e lui ci aspettiamo un attimo è meraviglioso adesso quanto tempo state insieme da quanto siamo sposati da tanti anni siamo sposati tanti anni pazzesco ragazzi tanti anni sì vabbè devo dire che voglio farle un'altra domanda ma tanto qua stanno suonando stanno facendo cabaret concerto senti ma qualcosa che lui ti ha proposto di sperimentare aggiuntivo al rapporto normale c'è stato in che senso tu dici durante la relazione sì sì durante la relazione poi vabbè sì poi poi quando c'è confidenza diventi un po pervertito poi soprattutto quando è una relazione molto molto lunga quindi dove condividi tante cose tanti aspetti della propria vita quindi ti puoi fidare puoi parlare di tutto quindi poi diventi un pervertito allucinante anche la donna diventa una pervertita allucinante quindi si tratta molto porca come lui ma perché mi fate dire queste cose dico così bene normale una relazione secondo me più che in una c'è a volte succede che nella botte via sai magari lo fa per 15 se ne frega di quello che pensa e invece nella relazione un po timore perché ha paura di essere giudicato dal partner però in realtà quando il rapporto è così tanto stretto dove veramente fate tutto insieme eccetera diventi pervertito che è una meraviglia e come vi approcciate al diciamo sondare le varie ulteriori esperienze vabbè io sono molto diretta vabbè si sa proviamo e via si sa e lui anche perché non essendo lui di carattere anche se non è così lui è un po più chiuso un po più timido però comunque con me sa che può dire tutto quindi non ha non si è mai scandalizzata? no 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 perché dovrei neanche lui che è un po più introverso rispetto a me anche molto più tradizionalista così sono io ragazzi abbiamo finito facciamo un appello affinché noemi torni poi tra di noi voglio rivedere sarà un anno che non la vedo e da cristian ed elena è tutto ciao